Buonasera a tutti, cari Monterossine e cari Monterossini, anche se non ci vedete noi siamo qua sempre operativi in comune per eseguire tutti gli aggiornamenti dal governo e dalla regione. Vi faccio i miei complimenti perché siete bravissimi a rispettare le norme di comportamento e continuare a rimanere a casa. Il lavoro è tanto e non si ferma mai. Regolarmente la polizia locale gira con l'auto nel centro storico e affigina. I nostri agenti insieme agli agenti della stazione dei Carabinieri di Monterosso effettuano controlli sui mezzi in entrata e in uscita sia al Colle di Gritta che presso la stazione ferroviaria. Negli ultimi giorni a seguito delle ulteriori restrizioni imposte dal governo i controlli come sapete si sono intensificati anche grazie alla presenza sul territorio della Guardia di Finanza della Svezia. Siamo una grande comunità e ne usciremo anche questa volta. Grazie a tutti per l'impegno, aiutiamoci a vicenda. Noi siamo qua e per qualsiasi cosa abbiate di bisogno. Ricordatevelo. Un saluto. A presto.